Seconda importante operazione antimafia a Palermo in 24 ore, 8 gli arrestati, il loro business principale, le estorsioni. Giorgio Ruta. Volevano acquisire locali, prendere subappalti di lavori pubblici, imporre ai propri uomini e le proprie aziende, tutto a suon di violenza, appiccando il fuoco ai cantieri e minacciando. Nella notte i carabinieri hanno colpito il clan di Tommaso Natale a Palermo, otto le ordinanze di custodia cautelare, cinque persone erano già detenute. E la seconda operazione in due giorni contro le estorsioni nel capoluogo siciliano, dopo quella contro il mandamento di Ciaculli. Stavolta però due imprenditori hanno denunciato. È stata la collaborazione diretta e spontanea dei due imprenditori, che ringraziamo sempre per il loro coraggio civico nel riferire i fatti. Da migliaia di euro a poche centinaia, le richieste estorsive erano proporzionali al valore dell'attività commerciale. La ricerca e l'esigenza di ottenere fondi per autosostentarsi e per sostentare i detenuti è una delle esigenze costanti di Cosa Nostra, soprattutto anche della parte militare, delle famiglie di Cosa Nostra. A Parigi comparirà in udienza oggi pomeriggio davanti ai giudici francesi.